E ben ritornati al mio canale, sono WalkingDread e questo è un nuovo gioco Don't Sturve Facciamo subito un bel play New game, start Dobbiamo fare una specie di sopravvivenza ragazzi Grafica particolare, pupini simpatici Vediamo com'è Chiaramente in inglese Allora, se non sbaglio, qua cosa c'è? Una casetta Pig house, button tattoo, inspect Oddio, questo Si incazza Il porco Allora Prima di tutto bisogna accendere un fuoco Bisogna procurarsi roccia e legno Ok, roccia e legno Legno Un po' legno Un po' di erba 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 Abbiamo creato un fuoco Va bene, nel frattempo io prendo anche altre cose che mi potrebbero servire Andiamo a prendere le rocce Ok, abbiamo creato le rocce Creato, abbiamo preso le rocce, ok Allora, lì c'è un alveare, meglio non toccarlo direi Allora Stiamo un po' alla larga da quello Un po' di fiori Un po' di rocce Fiori, ok Non perdiamo tempo, andiamo a fare subito un'ascia E soprattutto Questa ancora no Un fuoco Allora, per il fuoco bisogna andare a riprendere Legni Perfetto Allora Abbattiamo qualche abete Perfetto Ancora Simpatico, simpatico Dai Abete, abete Questa sarà un po' più dura, ma ce la faremo Dai Ah, per il fuoco ci siamo No, manca Il fogliame Quindi queste Ok, accendiamo un fuoco immediatamente Yes Facciamo un po' di razzia Sulle prime cose da fare Oddio, no Quello no Oddio, quello sarebbe da Non ce la farò mai, no Mi inseguono le ape assassine Mi inseguono le ape assassine No, ritorniamo al nostro campo Altrimenti Si rischia di Ma io non è che Beh, sono messo Male Ok, cos'è che devo fare Non si sa Per mantenere il fuoco Allora Serve legno Roccia e oro L'oro non si sa Dove andare a prenderlo Per creare Una macchina scientifica E dopo dobbiamo fare Un spare Use the point Poi abbiamo anche il cappello No, no Dai Dai Fuoco Ancora 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 Non basta Ecco Un pagliaio Fuoco Per fortuna Allora Il 32% Ok Quello è la resistenza Il must lead Ok Facciamo un po' di razzia Anche qui Che servono sempre Questi La resistenza Di quest'ascia È quasi finita Torniamo qui Non so Non so cosa vuol dire Questo Questo e questo Praticamente il mio stomaco Sta morendo Il mio stomaco Sta morendo Dunque 5 Non so cos'è 5 di quelli Ma Una corda 8 6 Vedi Mancarebbero 6 di quelli Non so Survival Questo niente Questo niente Bisogna prendere la corda Ma 10 Non so cos'è Come fare Ah ok Log Get all Select Drop Si va bene Ma Non so come si fa Oh Sono sopravvissuto Incredibilmente Prendiamoli questi Prendiamoli Oh Ha salvato Grande No Teta Sono lontano Dove c'è Ah I'm so hungry Esatto Oh Ce l'ho fatta mangiare Per fortuna Ok Allora Con queste Giro Con queste Seleziono E anche Questa La mangiamo Ancora Lo stomaco Non ci basta Pangecon Pangecon eh mo so cazzi ho preso i funghietti lucinogeni oddio chi è quello oddio 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 mi mangia anche questo ho mangiato tutto stinger non sa cos'è mangia anche l'erba giorno 3 oh un wormhole ho preso un wormhole dove vado a finire ecco mi ha mangiato no molto strana sta cosa molto molto strana dai prendi tutto qui salvataggio grande 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 it's a plant dai raccogli bene legna 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 oh questa musichetta avanza e non mi piace tanta roccia mi serve una eccola dai 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 mi serve il fuoco non è che mi piace quello eh facciamo un fogrello mangio tutto mangio tutto oh una carota mia 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 accendiamo un fuoco e qui non dovreste arrivarci allora a noi ci serve sei di quelli sei pagliai uno grande dovrei aver fatto qualcosa no ancora ne mancano quattro tre quattro eh mano 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 che prenda confidenza con i comandi si riesce bene ragazzi e con questo dovremmo aver fatto torniamo subito al nostro fuoco questo è mio yes non so cos'è questa roba trap andiamo a mettere una trappola qui è una trappola va bene però chissà se è una trappola per ma qua si vede bene anche un'altra noce mangio un po' perché è carino una roccia flinta esce no mi sa che si sto seminando basta mangiamo petals mangiamo i petali va bene oh ma il fuoco oddio mancherebbe quello uno due tre fare il fuoco vai uno dai fuoco fuoco ancora no e qua altro fuocarello oddio non ho fatto granché però mangiamo apre il cervello nulla quindi pinecon queste le mangiamo queste le mangiamo anche questa cercate drop ops si sta facendo scuro l'importante l'importante è che mi resista al fuoco l'importante è che mi resista al fuoco lo stomaco per il momento non posso fare nulla l'importante è che mi è una e questa è che qui il suo dark il mio survivor due giorni bene ragazzi questo è un nuovo giochino quindi se vi è piaciuto il video lasciate un commento e bye bye al prossimo episodio di Don't Stare da Walking Dead ovviamente a tutti